Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Lutto improvviso nel mondo del cinema, si è spento all'età di 72 anni il celebre attore e regista. La sua scomparsa, dovuta a un attacco cardiaco, ha scosso profondamente il panorama artistico. Come riportato da un noto giornale, il suo cuore non ha retto, lasciando un vuoto incolmabile tra i fan e i colleghi. In Italia, molti lo ricordano per la sua straordinaria interpretazione nel film Il mostro di Roberto Benigni, dove ha vestito i panni di pari de taccone, il criminologo determinato a incastrare Loris. Ma l'attore e regista, ha lasciato un'impronta indelebile anche nel cinema internazionale. Nel corso della sua carriera, è stato nominato più volte ai prestigiosi premi Cesare e ha vinto il premio come miglior attore nel 1986 per la commedia «Lui portava i tacchi a spillo». La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo dello spettacolo, che oggi si stringe attorno al ricordo di un artista straordinario. Parliamo di Michel Blanc e tutti noi facciamo le più sentita condoglianze alla famiglia. Ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore